Con questo sasso, anzi con questi due sassi, adesso colpirò la cornice in maniera da far sembrare le rotture che provocherò con questi sassi delle rotture antiche. Con questo sasso, anzi con questi due sassi delle rotture antiche. Con questo sasso, anzi con questi due sassi delle rotture antiche. Con questo sasso, anzi con questi due sassi delle rotture antiche. Anzi con questi due sassi delle rotture antiche.